Sono circa 6.000 i senza fissa dimora che vivono costantemente tra i portici, le stazioni e i giardini di Napoli. I dati sono stati presentati in prefettura dall'assessore al welfare del comune Luca Trapanese nell'ambito del tavolo di coordinamento per un'azione di supporto e accoglienza promosso dalla prefettura di Napoli. Alla discussione hanno preso parte, oltre al comune, anche i rappresentanti della ASLA Napoli 1 Centro del 118 nonché della Croce Russa Italiana, della Caritas, della Comunità di Sant'Egidio e di tante altre associazioni di accoglienza. Dal tavolo è emersa la necessità di creare un vero e proprio pool di soggetti per realizzare insieme un'attività incisiva per il sostegno e il recupero di chi vive per strada. Così il prefetto Michele Di Bari ha i nostri microfoni. E allora di qui la necessità di fare un tavolo comune in prefettura per mettere a fattore comune tutti gli elementi necessari perché per esempio non venga mai sprecato il cibo, perché c'è davvero una grande dinamica attività da parte dell'associazionismo laico e religioso, da parte della chiesa locale, da parte del comune di Napoli, degli enti locali interessati. C'è questa grande prospettiva e c'è questa grande sensibilità. Di qui allora la necessità di mettere a fattore comune tutte queste energie con la capacità di individuare quali sono gli orizzonti che noi dobbiamo darci. Innanzitutto per esempio un allargamento dei dormitori, dei posti dei dormitori. Il comune di Napoli sta facendo grandi sforzi perché soltanto nell'ultimo periodo sono stati aumentati 225 posti. Per esempio creare una cabina di regia presso il comune di Napoli presieduta dall'assessore trapanese perché possa anche in quell'ambito creare condizioni di flessibilità ma anche di efficacia degli interventi che vengono fatti ogni giorno.